L'apertura della galleria significa anche la chiusura totale del lungomare oppure ci saranno dei cambiamenti? Durante il periodo festivo ci sarà la chiusura totale, questo lo abbiamo detto più volte, abbiamo la necessità di una valutazione più complessiva di tutta la questione del traffico, di rafforzare un po' il piano traffico sulla città, quindi valuteremo anche l'eventualità che in alcuni momenti dell'aggiornato e in alcuni giorni ci possa essere l'area di apertura. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di rafforzare il trasporto pubblico e fare in modo che le aree pedonali possono aumentare e non diminuire.